e ci il nome marco marco sei convinto di fa' sta cosa con questo signore cosa dici io dico te si perchè è il numero uno è venuto da palermo da catania zimbare regà non immischiamo le cose perchè voglio di ti raccomando in uscita fai quello che dice lui dopo in volo guardi me perchè io ti sono davanti sorridi faggezzi fa quello che ti pare è il tuo video quindi number 5 e buon divertimento a fra poco in aereo ciao zero five gold zero five gold zero zero Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.